Mi chiamo Clara Lanfredi, abito a Mantua, sono erborista, master reiki, operatore e insegnante EFT, ma mi ritengo un ricercatore spirituale indipendente che crede nell'aspetto evolutivo dell'essere umano e mi piace condividere le mie conoscenze con chi contro sul mio cammino E sai perché? Perché aiutando gli altri che posso essere d'aiuto a me stessa Con il mio intervento, nel webinar di venerdì 7 dicembre alle ore 21, ti mostrerò come crescere spiritualmente utilizzando EFT Ti parlo di questo tema perché ho sempre sentito che siamo molto di più di un corpo fisico E non ho bisogno di prove scientifiche per dire che esiste una sorgente Chiamala universo, chiamala Dio, chiamala come preferisci Io credo che in questo momento così particolare della nostra esistenza ci dobbiamo risvegliare per evolvere Ma è anche importante sapere come fare per evolvere, per crescere, per sentire che siamo amore in forma fisica E che dentro di noi c'è già tutto quello che ci serve per crescere E grazie a EFT possiamo spogliarci di tutto quello che ci limita e andare a risvegliare la nostra essenza Allora ti aspetto venerdì 7 dicembre alle ore 21 e ti invito a iscriverti al sito eftwebcamp.com È assolutamente gratuita l'iscrizione e anche la partecipazione E niente, ti aspetto e saluto il divino che è in te Namaste Grazie